Cosa le è sembrata questa visita a sorpresa all'interno del porto di Vieta? Direi che è una visita dovuta, perché comunque è giusto che i cittadini siano a conoscenza di quello che avviene qui, se ci sono delle irregolarità, se tutto viene svolto secondo la legge, se ci sono i controlli, eccetera. E quindi noi che cosa facciamo come parlamentari del Movimento 5 Stelle? Portiamo i cittadini alla trasparenza, diamo una mano ai cittadini ad arrivare alla trasparenza che a volte manca. Oggi per fortuna hanno aperto le porte non solo a noi, ma anche ai cittadini locali che da anni seguono la gestione di questo porto e stanno rispondendo a tutte le domande che magari fino adesso sono rimaste in evase oppure hanno lasciato dei punti interrogativi per tanti anni. Abbiamo chiesto informazioni anche delicate e speriamo che questo sia un passo appunto verso una trasparenza istituzionale che è dovuta. Come ha detto anche il dirigente dell'autorità portuale, questo è un bene pubblico ed è giusto che sia pubblico in tutto e per tutto. La gestione, la sicurezza, la tutela ambientale, eccetera, devono essere tutte quante pubbliche, trasparenti e anche corrette. Avete avuto qualche risposta rispetto ai materiali ferrosi che sono stipati all'ingresso del porto? In che termini? Nel senso che se questi materiali dovranno rimanere qui ancora per parecchio o c'è qualche possibilità perché non è molto bello vederli qui ogni giorno? Allora, il discorso è che quel materiale lì è sotto sequestro per cui l'autorità portuale non è entrata chiaramente nel merito. Ovviamente sono tutte informazioni riservate sui tempi durante i quali resteranno ancora qui, sul fatto che magari ci siano stati rilievi sulla tracciabilità, quindi sull'effettiva provenienza di questo materiale. Sono tutte cose però che non si possono proponire perché c'è appunto il lavoro della magistratura, quindi non si sono sbilanciati. Soltanto per dire, sono anche approdate delle navi turistiche qui e se li sono trovati davanti, poi c'è il rischio che qualcosa comunque vada disperso, no? Assolutamente sì. Il discorso della tutela ambientale, come dicevo prima, è un atto dovuto quando si fanno questo tipo di attività. È chiaro che già i cittadini hanno fatto i loro rilievi a riguardo ed è giusto che il prima possibile mettano in sicurezza quel materiale. Però a livello proprio di tempistiche eccetera non si sono sbilanciati proprio per un discorso che il materiale è sotto sequestro, quindi sembra che appunto non si vogliano... Magari potrebbe essere utile perlomeno una copertura? Eh, quello assolutamente sì. Infatti una cosa che hanno chiesto i cittadini che sono venuti qui oggi è stata proprio quella di attuare questa copertura e io spero che diano seguito a questa cosa. Vigileremo. No, abbiamo trovato comunque l'autorità portuale disponibile ad aprirci al porto. Abbiamo fatto una serie di domande, adesso ci traranno della documentazione per approfondire il discorso anche della vasca sotterranea che dovrebbe raccogliere i rifiuti, i detriti inquinanti, quindi vediamo un attimo di verificare se tutta la documentazione corrisponde a quanto ci è stato detto. Le domande sono state fatte, alcune risposte ci sono state date, adesso verifichiamo se sono giuste. Poi l'importante è comunque che i cittadini siano potuti entrare finalmente e verificare con loro occhi se ci sono più o meno irregolarità e quindi anche ridurre un po' il senso di insicurezza e di paura rispetto ad alcune attività del porto. Alcune cose sono state confermate, alcune criticità, altre sono state sminuite un pochino dal rappresentante dell'autorità portuale. Verificheremo con le carte se quanto ci è stato detto è giusto oppure no.